Sono stati consegnati agli operatori del settore peschereccio di Licata i box city nella darsena di Marianello. La consegna è avvenuta in seguito all'assegnazione definitiva, riconoscendo il diritto di uso ai titolari di unità di pesca che ne hanno fatto richiesta, secondo una graduatoria approvata e aggiornata. La Capitaneria di Porto Empedocle aveva concesso di occupare nella darsena di Marianello del porto di Licata 560 metri quadrati di suolo demaniale marittimo per realizzare dei pontili galleggianti e 50 box di servizio per l'attività pescherecce. L'11 giugno dello scorso anno è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra il comune di Licata e il GAC, l'unicità del Golfo di Gela, al fine di realizzare il progetto previsto dall'azione e sistemazione dei luoghi di sbarchi, fornitura e montaggio di box prefabbricati da installare nella darsena di Marianello del porto di Licata a servizio dei pescatori. Terminati i lavori di fornitura e montaggio dei box prefabbricati, le strutture, una volta realizzate, sono state consegnate all'amministrazione comunale. Si tratta di box destinati a deposito e attrezzature per i pescatori. È stata pubblicata la delibera di avvenuta consegna dei box con l'elenco dei pescatori assegnatari delle strutture. La delibera riporta altresì le condizioni che gli operatori dovranno rispettare. Usare il box esclusivamente per la rimessa delle attrezzature per la pesca, mantenere il box in perfetto stato di conservazione e accollarsi le spese di ordinaria manutenzione, quali ad esempio riparazione di tutti i danni, guasti e detti arrivamenti causati dal cattivo uso o negligenza, riparazione e sostituzione delle porte nonché delle serrature, maniglie e chiavistelli. Non effettuare nessuna miglioria, innovazione o modifica dei box senza il consenso scritto dell'ente. L'assegnatario inoltre è tenuto in via diretta ed esclusiva al risarcimento di tutti i danni causati al Comune. E ancora l'assegnatario dovrà produrre ogni due anni entro il mese di gennaio la documentazione fiscale dalla quale si desume lo svolgimento dell'attività.